Noi saremo presenti come associazione Abibike Woman insieme a Evolution Bike e Irpinia Bike House. Io ho Anna Lisa Albanese e Lucia Nobis in prima linea per pedalare da Burgo Ferrovia fino ad Avellino, scendendo per il corso, arrivando in Piazza Libertà, dove ci saranno tante sorprese, ci saranno cantanti, associazioni sportive, istituzioni, sindacati, corpi necessari ovviamente, indispensabili anche e soprattutto per la violenza contro le donne, carabinieri, insomma le forze dell'ordine, tutte. Vi aspettiamo numerosi, cercheremo ovviamente di darvi anche l'aspetto ludico, quindi piacevole per la mattinata con cinque cantanti donna, un uomo e vi aspettiamo veramente con tanto e tanto piacere. Molte donne insomma non rivelano effettivamente le violenze subite, perché ci sono tipologie diverse di violenze, da quella psicologica a quella fisica a quella mediatica. Vi assicuro che siamo tantissime, io mi accodo a tutte perché ognuno di noi ha avuto la propria esperienza e quindi ci saranno persone che magari potranno manifestare in questo senso, cioè esprimere e finalmente dare un grido del no alla violenza anche subita, è quella che non si dovrebbe mai più poi vedere.